L'Aumans è stata fondata nel 1925 ed è una delle marche storiche della stilografica italiana. Dall'ora, sia pure con alterne fortune e vari passaggi di proprietà avvenuti dopo la morte del fondatore, è sempre rimasta attiva sul mercato. Passata nel 2000 alla francese Louise Vuitton, è stata ceduta nell'ottobre 2007 alla cinese Engdel ed è stata definitivamente chiusa nel marzo 2016. Dopodiché il marchio, senza più i suoi macchinari e altre cose, è stato acquistato da una proprietà italiana che già gestiva l'Ancora, sempre riguardante le stilografiche. Nella sua vita l'Aumans si è contraddistinta per una notevole capacità di innovazione tecnica e qualità produttiva, risultando probabilmente in questo superiore a qualunque altra azienda italiana. Non si può dire, però, che abbia particolarmente brillato per capacità di innovazione stilistica, perché tutte le sue penne più famose, per quanto spesso più belle e qualitativamente superiori agli originali, mostrano sempre, in maniera evidente, un forte tasso di imitazione delle caratteristiche stilistiche di penne di altre marche. Nonostante questo, la qualità assoluta dei prodotti Omas, la capacità di creare imitazioni migliori degli originali e in particolare la raffinatezza dei modelli in celluloide, rende le penne di questa marca fra le più ricercate dai collezionisti. Nel 1919 Armando Simoni, appena sposato, aveva aperto a Bologna un'officina in via San Vitale che registrò come lavorazione di articoli di penne in ebanite, dove produceva meccanismi per stilografiche. Parallelamente conduceva a un'altra attività come fabbricazione di materiale cinematografico. In breve il laboratorio di penne iniziò a produrre pezzi e parti per penne stilografiche per le aziende leader. Dopo aver ottenuto un notevole successo, la domanda dei clienti crebbe esponenzialmente e Simoni, Armando Simoni, iniziò ad espandere l'azienda e anche a produrre penne intere. Fu però solo nel 1925, dove era completato la costruzione e lo stabilimento di Via degli Orbi, che furono create le officine meccaniche Armando Simoni, il cui acronimo OMAS sarebbe diventato il marchio utilizzato per le sue penne. A questo periodo, posto fra il 1919, anno della registrazione di un'attività di lavorazione per i cambi di penne in ebanite e il 1925, data di fondazione della OMAS, paiono risalire alcune rientranti in ebanite, realizzate nello stile della Waterman 42. Allo stesso periodo viene fatto risalire uno stiloforo in ebanite, fiammata, con caricamento a levetta. Per quanto rarissime queste penne, sono di interesse tecnico e stilistico, assolutamente scarso, il loro valore è quasi esclusivamente storico. Il primo modello di rilievo prodotto dalla OMAS fu la penna del dottore. Viene da sorridere, però, brevettato nel 1927. Una penna molto particolare anzitutto per la sua forma, oltre che per la caratteristica di poter alloggiare un termometro al suo interno. Il termometro veniva separato dal meccanismo di caricamento a levetta da una parete divisoria metallica e vi si accedeva direttamente svitando il fondello. La penna venne prodotta in due misure, media e grande. Nel 1930 ne venne brevettata una seconda versione, coperta da un secondo brevetto, con sagoma più classica, ispirata al design delle Parker Duofold a caricamento ai dropper. Il termometro era direttamente agganciato al fondello, sempre prodotta in due misure. Dello stesso anno è un brevetto per il giunto cardanico del bloccale degli stilofori, un settore in cui l'azienda riscosse un notevole successo. Nel 1930 Simoni produsse la cosiddetta penna del calligrafo con pennino intercambiabile, brevettata anch'essa. Era dotata di una sezione pennino montata su un'aggiunzione filettata che poteva essere svitata e sostituita facilmente, dando così la possibilità di cambiare pennino in maniera abbastanza semplice, a differenza delle altre soluzioni che consentivano di cambiare facilmente il pennino, come il personal point della Eversharp. In questo caso era tutta la sezione che poteva essere cambiata e non solo il gruppo alimentatore pennino e l'operazione era pensata per essere fatta dall'utente della penna, in modo da consentirgli l'uso di pennini diversi, tanto che l'estremità della sezione era dotata di una sporcenza zigrinata per facilitare l'operazione di smontaggio. La Omas fu una delle prime aziende italiane a passare alla celluloide, fra la fine degli anni venti e gli inizi degli anni trenta, producendo le sue penne, oltre che nei colori classici, verde, giato, blu, lapelis, lazzulo, pure in interessanti variazioni cromatiche marmorizzate. In questo periodo la produzione iniziale della Omas è caratterizzata da vari modelli in stile flat top con caricamento a pulsante di fondo. Imitazioni evidenti della Duofold, di cui del resto pare che l'azienda producesse anche la versione italiana su commissione del rappresentante per l'Italia. Di fatti è di questo stesso periodo la presenza in Italia di alcune Parker nei modelli Duofold marcata e Geo S. Parker fabbricato in Italia, la cui produzione venne attribuita alla Omas. Su queste penne esiste un ampio dibattito se si tratti di una vera produzione su commissione della Parker fatta per aggirare le restrizioni poste dalle politiche autarchiche del regime fascista o se si tratti davvero di una produzione clandestina e forse anche illegale. Più o meno a questo periodo si può far risalire l'inizio della produzione di penne marcate Minerva, l'unica vera sottomarca della Omas, dedicata alla produzione di seconda fascia ma non di meno di qualità eccellente. Un modello è noto in ambito collezionistico come Minerva ellittica in misura grande caratterizzata da una forma particolare leggermente bombata sia del corpo che del cappuccio e dai sei anellini complessivi. Si tratta di una penna solida e robusta e non se ne trovano molte perché era pensata per un pubblico di professionisti e quindi era un po' cara. Del 1934 è l'introduzione della linea denominata Minerva classica contraddistinta da una linea più sottile rispetto alle precedenti versioni della Minerva ellittica e da uno scalino sulla parte finale del corpo in prossimità della sezione per consentire una minore esporgenza a cappuccio montato. Il vero punto di svolta nella produzione della Omas avvenne nel 1932 quando venne introdotto quello che resterà per vari decenni uno dei modelli di punta dell'azienda, la Omax Extra, un'astricola grafica dal design totalmente nuovo che rivoluziona completamente il panorama produttivo dell'azienda di Simoni. Nata inizialmente nella versione faccettata e solo successivamente prodotta nella variante cilindrica, la Omax Extra è una penna ricca ed elaborata caratterizzata da una vera gregata montata tra due sottili anellini ed una gamma di colorazioni tra le più belle dell'intero panorama produttivo italiano e internazionale. Era realizzata in celluloide sfaccettata con caricamento a levetta e dotata di una vera molto ampia sul cappuccio decorata con motivo a forma di greca. Prodotta in tre diverse dimensioni grande, media e ledi e lanciata con lo slogan creazione di artista e di scienziato. E Omax Extra, la stilografica del tempo moderno, venne così accompagnata da una campagna pubblicitaria molto estesa per l'epoca. Benché la Omax Extra sia molto simile alla Doric, prodotta dalla Eversharp, introdotta pochi mesi prima, la questione, se si tratti di una imitazione di quest'ultima, è comunque controversa, dato che il tempo intercorso effettivamente potrebbe essere piuttosto breve. Gli estimatori della Omax sostengono che, dato il breve tempo intercorso fra l'uscita delle due penne, non sarebbe stato possibile creare gli impianti produttivi se la Omax Extra fosse stata una imitazione della Doric. Ma non esistono informazioni di supporto a tale affermazione, mentre ci sono ampie conferme sulla tendenza dell'azienda a imitare i modelli americani. Indipendentemente dal fatto che possa essere considerata una imitazione o meno, l'Extra, comunque, per la qualità di materiale e di lavorazione, si può senza dubbio ritenere assolutamente al pari, se non spesso superiore, rispetto ai modelli cui può essersi ispirata. È però innegabile che la decorazione sul cappuccio fosse identica a quella della decoband della Eversharp, che è del 1928, il che fa supporre una certa attenzione della Omas alle innovazioni stilistiche introdotte da quella marca. Alla versione faccettata venne fatta seguire, dopo qualche tempo, la data di introduzione non è nota, ma è senz'altro successiva, una versione tonda, dotata delle stesse decorazioni della versione faccettata. Nel 1936 venne poi adottata la decorazione del cappuccio con tre anellini sul modello tondo e nel 1940 sul modello faccettato. Nel 1936 venne brevettato e introdotto un nuovo capolavoro, la Omas Lucians, dotato di un corpo in parte trasparente e di un originale per l'Italia, sistema di caricamento denominato stantuffo tuffante. La pressione interna al corpo della penna, in questo sistema di ricarica, viene esercitata attraverso un pistone cavo, cui si accede dal fondello, che presenta una parte finale allargata, ma afforata al centro in modo da poter scorrere abbondantemente intorno allo sfiadatoio, che in questo caso è molto lungo ed arriva vicino alla fine della penna. Svidando il fondello è possibile estrarre il pistone cilindrico, che scorre a tenuta rispetto al corpo della penna ed effettuare tramite esso l'azione di pompaggio. Il meccanismo è molto funzionale e nettamente più evoluto del vacuumatic e degli altri sistemi analoghi, perché a differenza di questo non necessita di membrane o altri elementi flessibili in gomma. In realtà un sistema di caricamento sostanzialmente identico a questo e altrettanto funzionale si trova sulle penne realizzate dalla DUN risalenti a ben 15 anni prima. La Lucians costituisce comunque una delle più belle stilografiche mai realizzate, in particolare per la bellezza della celluloide utilizzata, dotata di sezioni trasparenti per la visualizzazione dell'inchiostro. Mi ricorda qualche cosa questa penna? La sto guardando, devo essere sincero, a molte cose di una casa stilografica moderna italiana. Andiamo avanti. Realizzata inizialmente in versione liscia, alla Lucians si unì subito anche la Extra Lucians, dotata di un corpo sfaccettato come la Extra. Anch'essa nelle tre misure, grande, media e ledi, ma con caricamento a statunfo tuffante. Tecnicamente la Lucians e la Extra Lucians sono identiche, ma la precedente clip a rotellina, molto simile a quelle della Doric e della Eversharp, viene sostituita da una clip a forma di freccia. Per questa penna venne elaborato inoltre un particolare pennino bicolore reversibile con l'incisione Omas Extra Lucians e la sagoma di una freccia. Inoltre la decorazione a vera aggregata venne sostituita da tre sottile vere sul cappuccio e c'è l'aggiunta di una piccola incisione circolare sul cappuccio al di sotto della clip con le iniziali di Armando Simoni. Certo, ci sono molte ispirazioni, ad esempio il design del pennino sicuramente ha preso ispirazione dalla Parker e senza contare naturalmente la clip a freccia. Nonostante le limitazioni, la Extra Lucians resta una penna senza ombra di dubbo superiore in tutti gli aspetti, tecnico, estetico e di qualità realizzativa, a qualunque vacuumatic e probabilmente il più bel modello prodotto dalla Omas. Stiamo parlando del modello Extra Lucians. Col progredire della guerra iniziarono a scarseggiare le materie prime, in particolare l'oro per i pennini. Così come la gran parte delle aziende europee, la Omas dovette ricorrere a una lega di acciaio inventata da Simoni, ribattezzata Permagno, della quale si proclamava la superiorità anche rispetto all'oro. In realtà proprio questa lega risultò essere una delle più suscettibili alla corrosione, tanto che oggi i pennini in Permagno sono rarissimi ed hanno un valore ben più alto dei loro analoghi in oro. Negli anni del dopoguerra, superate le difficoltà di approvviggiamento di materie prime e pronta a cogliere le trasformazioni del gusto del pubblico, Simoni procede a un restyling tecnico ed estetico delle proprie linee. Il modello Extra Lucians non subisce variazioni di rilievo e rimane sostanzialmente mutato. Recupera il pennino in oro, questa volta monocromatico e non più reversibile. Nel 1946 la linea Extra fu completamente ridisegnata, la clip con la rotellina fu mantenuta, ma furono usati tre anelli sul cappuccio. Inoltre fu adottato il caricamento a pistone e introdotta una sezione trasparente per la visualizzazione del livello di inchiostro. Sono state mantenute tre dimensioni piccole, medie e grandi, che verranno identificate rispettivamente con i numeri 555, 556 e 557. Signori miei, io sto guardando anche le foto della guida stilografica che riguarda l'OMAS. Sono molto belle. Io vi consiglio di andare su Facebook, iscrivetevi alla pagina del Circo dello Stilografia Romano e scaricatevi l'intera guida in PDF gratuitamente, senza farvi pagare neanche un centesimo. Però ne vale la pena perché è bella, bella, da guardare, perfino da stampare. Chissà mai se avremo mai la versione cartacea. Andiamo avanti. Siamo arrivati al 1948, quando venne realizzata quella che è forse la più significativa invenzione nel mondo della stilografica italiana, il modello 361. Nata in risposta al successo della parca 51, l'originalità della penna sta nella posizione centrale del pennino, montato sull'asse della penna, schermato da un guscio di copertura curvo conico, aperto sul lato, dal quale emerge il pennino. In questo modo, a seconda del lato da cui si usa della penna, il pennino può essere completamente coperto e bloccato dal guscio, ottenendo una scrittura rigida o completamente aperto e libero di piegarsi, consentendo una scrittura flessibile. Un sistema di gradazione del tratto molto funzionale, tanto che si narra che la stessa Parker tentò più volte di acquistare il brevetto dalla Omas. La penna ebbe un notevole successo e per le sue caratteristiche tecniche, costruzione in celluloide, caricamento a stratum tuffo, pennino a doppia scrittura, è superiore una Parker 51 da qualunque punto di vista. La penna rimase in produzione fino alla metà degli anni Sessanta. Assumeremo arbitrariamente il 1965 ai solo fini di gestione della cronologia ed è con questo modello prodotto fino a metà degli anni Sessanta, prima con cappuccia e vite successivamente a scatto che la Omas inizierà nel 1954 la produzione di penni in resina termoplastica, senza tuttavia abbandonare mai l'utilizzo della celluloide. Benché siano stati fatti altri tentativi di realizzare sistemi che consentissero una diversa gradazione della flessibilità del pennino, fra cui il più noto è forse l'Ajustable Point della Aether Shop, il vantaggio di questo sistema sta nella sua semplicità e nel fatto, tutt'altro che trascurabile, che a differenza degli altri macchinosi e che davano luogo a risultati discutibili con problemi di usabilità e di fragilità generale, risulta invece essere efficace, facile da usare e robusto. Le pene di questa serie vennero prodotte in tre misure, grande, media e piccola, e in due versioni, tonda e sfaccettata. Le versioni tonde, denominate 361-T, vennero realizzate usando la nuova forma, affusolata a forma di sigoro, denominata ogiva, ed erano dotate di una clippa rettangolare, liscia e di una singola veretta sul cappuccio. Sul corpo era riportata l'incisione in stampatello della dicitura Omas 361, seguita dal riferimento al brevetto disposto su due righe. Di questa versione tonda vennero pure prodotti modelli con il cappuccio in metallo laminato oro, denominati 361-C, o completamente in metallo, denominati 361-R. Le sto guardando, sono delle perne bellissime. La versione sfaccettata a 12 facce, denominata 361-F, era sempre prodotta in tre misure, ma della piccola esistono due versioni, una più corta e tozza ed una più lunga. Il cappuccio era decorato con una singola veretta liscia, mentre la grippe era di forma rettangolare, ma decorata con sfaccettatura della parte superiore. Sul corpo era riportata su una faccia l'incisione in stampatello della dicitura Omas, seguita dalla scritta Extra Breve, su due righe e infine dal numero del modello 361. Le pene di questa serie vennero realizzate sia in celluloide nera, a tinta unita, che in celluloide marmorizzata, che nella peculiare lavorazione denominata arco con motivi a venature di legno. Da notare le due versioni della penna più piccola. Nella prima versione del 1948 venivano stampati sulla sezione due puntini bianchi per indicare il diverso grado di flessibilità, sostituiti da due puntini in oro nel 1955 e infine nel 1957 i puntini furono sostituiti da frecce metalliche, una aperta per indicare il lato flessibile, l'altra chiusa per indicare il lato rigido. Il successo della Omas 361 fu travolgente. Un esemplare venne regalato all'allora capo del governo Alcide De Gasperi e un altro, speciale in avorio, a Pio XII in occasione dell'anno santo del 1950. Sono da segnalare, introdotti all'incirca nel 1950 e mantenuti in produzione per brevissimo tempo, i modelli 351 e il modello 352, penne rarissime e introvabili, di forma faccettata, ma con caricamento a stantuffo, il cui corpo era realizzato incollando alternativamente sezioni celluloide trasparente e colorata, così da ottenere uno straordinario risultato di serbatoio trasparente a sezioni alternate. Sto guardando la foto, sembra un capolavoro veramente. Nello stesso periodo le forme ogivali della 361 vennero adottate anche per gli altri modelli. venne realizzata la Lucence Ogiva. Sull'onda dello stile della 361 vennero lanciate nuove versioni ogivali della vecchia Extra, denominate 555-S, 556-S e 557-S, costruite in celluloide, con finestra trasparente, rossa o gialla e presenti anche nelle varianti con cappuccio metallico. Questa versione era caratterizzata da una clip rettangolare liscia e da una singola veretta sul cappuccio. Sul corpo era riportata l'incisione OMAX Extra a caratteri corsivi. Le forme sfaccettate vennero comunque mantenute sia per la 361 che per la nuova serie delle Extra con i modelli denominati 555-F, 556-F e 557-F. Si è classificata poi in questa linea anche la OMAX Gentleman, da non confondere con la successiva Gentleman in plastica, essendo in sostanza una 557 sfaccettata, parzialmente interistilizzata, realizzata sempre in celluloide e con pennino marchiato OMAX Extra Lucians, con la freccia e lo sfiato a casetta, e contraddistinta dal campuccio decorato da una vera regata fra anellini, come per le prime Extra. Le linee 556, 555, 557-S e le stesse MA-F, insieme alla luce insogiva e al modello 361, si sono comportate bene sul mercato, fino a quando non è diventato necessario un restyling della linea. Ahimè, nel 1958 muore Armando Simoni, il fondatore della ditta, furono la figlia Raffaele e il marito Angelo Malaguti a perpetuare lo spirito e la filosofia della casa bolognese. Circa nel 1961 venne introdotto il modello OMAX CS, forse insieme al modello VS. Entrambe le penne si possono considerare un'evoluzione del modello 361. Il modello CS venne proposto come la versione tradizionale a pennino aperto, da affiancare alla versione moderna con pennino semicoperto e reversibile, lo stesso della 361, costituita dalla VS. La caratteristica distintiva dei due modelli è la loro particolarissima forma ibrida, tonda al centro e svasata esagonalmente alle estremità. Assai particolare. Sia il cappuccio che il fusto hanno una terminazione liscia e piatta. Il cappuccio è decorato nella sua parte terminale con un'ampia banda in metallo dorato. I modelli VS e CS compaiono in un catalogo del 1965, in prima evidenza, e costituivano in quel periodo la linea di punta dell'azienda. è molto facile notare una certa somiglianza poi con la PFM della Schaffer. Nel 1968, Omas lanciò un nuovo modello top di gamma, la Milord, una pella in celluloide sfaccettata con una fascia sul cappuccio a chiave greca che in qualche modo andava contro la tendenza del tempo. Bisogna dire che il mercato in realtà si stava muovendo verso la plastica iniezione, con design più snelli e aggiornati. La Milord era invece un modello tradizionale realizzato in celluloide sfaccettata, solo in nero e grigio, e conservava il superbo pennino Extra Lucians. I modelli Milord e Gentleman rimassero sul mercato per più di un decennio e divennero il simbolo moderno degli elevati standard di qualità di Omas negli strumenti di scrittura. Altri modelli furono introdotti in quegli anni come la Omas Studio, la Omas Dama o 1930, le Omas 71 e 72 Super, ma non ebbero mai la stessa popolarità e apprezzamento dei due gioielli tradizionali Milord e Gentleman. Vediamoli più nel dettaglio. Omas Studio. Si tratta di una penna in plastica con caricamento a stantuffo realizzata senz'altro nel colore nero, con finiture dorate. Viene dotata di pennino aperto di buone dimensioni con foro rotondo. In oro 585 è recante alla stampigliatura del nome Omas in forma di monogramma con le lettere disposte all'interno di una O grande di forma circolare sovrastante il numero della titolatura. La penna ha forme affusolate ma con estremità piatte, una clippe liscia con linee convergenti verso una parte terminale piatta molto simile a quella della CS e una singola veretta liscia di circa 2,5 mm sul cappuccio. Esiste una variante chiamata Studio Lignetta C a cartuccia ed era prodotta anche in plastica colorata tipo verde chiaro o burgundy . La Omas 71 Super. Si tratta di una penna sfaccettata in plastica con caricamento a cartuccia di forme piuttosto originali ed alta qualità realizzativa. La sfaccettatura infatti è esagonale, solo il fusto diventa rotondo all'aggiunzione con l'ascensione. Il cappuccio è decorato con un'ampia banda dorata con due anelli di zigrinatura verticale all'interno dei quali su tre lati sono incisi in stampatello rispettivamente Omas 71 e Super. Altrettanto particolare è la decorazione a forma di gravatta in metallo dorato con striature longitudinali incassata nella sezione con un pennino semicarenato senza foro da reazione. Abbiamo poi la Omas 72 Super. Si tratta di una penna molto simile alla Omas 71 Super sempre con caricamento a cartuccia ma leggermente più sottile con sezione tonda che diventa esagonale solo all'estremità di fusto e cappuccio. Cappuccio mantiene la banda dorata ma questa è tonda con una decorazione ad incisione di linee verticali sottili da cui emerge in metallo lasciato liscio la scritta Omas 72 Super in stampatello fra due anelli sottili. Il gruppo pennino mantiene la decorazione in metallo dorato a forma di gravatta incassata nella sezione. ed ecco poi la Omas dama principessa, princess. La Omas dama conosciuta anche come Omas 1930 è una piccola penna che misura 120 mm ed il pennino è un piccolo Omas Extra Lucians. Io l'ho avuta e devo dire signora penna. è stata prodotta anche nella versione sfaccettata. Nella versione con annellino e nappa da come ho capito si chiamava Omas princess. Siamo ora negli anni 70-80 con il mito delle penne sottili o slim, slimline, che ha pervaso tutte le maggiori case di produzione. solo per citarne alcune, l'aurora astile, la Mont Blanc Noblesse, la Selor Chalana, ecc. In questo clima viene prodotta la Omas Rinascimento, decisamente somigliante all'aurora astile ma capace di scrivere sui due lati, con pennino rigido sul rovescio e leggermente flessibile sul dritto, sì un po' come la 361. Da notare che la stessa penna fu prodotta da Omas per conto della John Sterling, casa produttrice di oggetti di lusso e design, magari con materiali spesso più ricchi, oro, argento, smalti, per cui si trovano delle penne John Sterling che sono in realtà delle Omas rimarchiate. Sempre nello stesso stile fu lanciata la Omas 50, ho avuto anche questa. Uno strumento prodotto nel 1975 per la celebrazione dei 50 anni, 1925-1975 per la celebrazione dei 50 anni di attività di questo marchio. Penna a cartuccia prodotta in edizione limitata ma non numerata, il corpo è in acciaio inossidabile, forgiato da un unico pezzo e non ha rivestimento superficiale. Il suo fusto e il cappuccio sfaccettati a 12 lati si incastrano con un clic soddisfacente creando un giunto quasi invisibile. Come per la Rinascimento, anche per la Omas 50 veniva dato in dotazione un refill per trasformarla eventualmente in roller. Fu prodotta anche una versione tonda con un pennino in oro, la Omas 80. Sempre negli anni 70, la Omas DS fu prodotta dalla Omas per tener testa alla Auretta e alla Pelicano Antimacchia nei primi anni 70. Quindi una penna scolastica, però carina eh. Naturalmente la Pelican vinceva a mani basse, cappuccia a pressione, contenuta stagna, meccanismo antimacchia, finestra di ispezione, peninchiostro, tutte caratteristiche che le concorrenti non avevano, con prezzi equivalenti. Il sistema di carica è analogo a quello in uso sulle Auretta e Pelicano, una cartuccia inserita e l'altra di scorta nel fusto. Agli inizi degli anni 80 divenne evidente che la celluloide doveva essere abbandonata a favore dello stampaggio e iniezione per ridurre i costi di produzione. Omas decise di salvaguardare i suoi famosi modelli e di rivederli per renderli più modelli e meno costosi da produrre. I pistoni vennero semplificati, fu adottata resina vegetale, resina di cotone, al posto della celluloide e furono sostituiti i bei pennini extra luciens del passato, ahimè con quelli moderni. I nomi dei modelli rimasero parzialmente invariati, Milord non cambiò mentre Gentleman diventò Gentleman. Purtroppo, molti, sembra, siano stati problemi nati da questo aggiornamento dei sistemi di carica e del materiale costruttivo. Anzitutto, le penne Omas antecedenti a questi aggiornamenti avevano un sistema di carica a pistone molto robusto ed erano riconoscibili dal fatto che il fondello era attraversato da una spinetta visibile esternamente. Il nuovo sistema di carica, invece, era molto delicato. Aveva un dentino interno molto fragile che fungeva da blocco al pistone, di fatto rendendo molto delicato lo stantuffo. Facilmente andava incontro a rotture rendendo inutilizzabile la penna. A riguardo della resina di cotone, pare che il materiale della penna fosse molto lucido e sedoso al tatto, ma con la tendenza a deformarsi, a volte restringendo il cappuccio tanto da non farlo più avvitare completamente. O le verette si muovevano, problema a mio parere a volte riscontrato anche con alcune celluloide o con particolari resine plastiche, tipo una delle prime generazioni di Optima in auroloide dell'Aurora. A prima vista, le differenze fra il Milord Gentleman in celluloide e il Milord Gentleman moderno in resina vegetale difficilmente si notano, ma un occhio esperto e una mano sensibile possono immediatamente distinguere la plastica moderna. Un indizio comunque possono essere le faccettature della penna, più arrotondate per la generazione in celluloide e più squadrate per la nuova generazione in resina vegetale. Alta differenza si può riscontrare nel pennino, con sfiata forma di casetta nelle celluloide e rotondo nei modelli a resina vegetale. Il modello Gentleman è stato finalmente rivisto con l'aggiunta di una fascia a chiave greca sulla sezione scrittura, ribattezzato 557-F, per diventare presto il modello di punta della collezione arte italiana, che è stata introdotta nel 1984. L'arte italiana era una collezione completa di strumenti di scrittura, che manteneva il design classico con 12 sfaccettature, introdotto nel 1931, e che raccoglieva tutti i modelli faccettati, il 555-F, il 556-F e il 557-F. Nel 1985, l'originale modello 557-F cambia il nome in The Paragon. Perché si chiama così? Forse perché rappresenta un modello di eccellenza e perfezione, qualcosa di tanto eccezionale, dei meriti tanto straordinari da essere considerato un esempio da imitare. Oppure perché riferimento a un famoso diamante inglese. Prima serie di Paragon in celluloide, i colori erano Scarlet, Red, Royal Blue, Arco Marrone, Arco Verde, Saffron, Soft Green e Pearl Grey. Nel 1987 nasce la collezione A.M.87, Angelo Malaguti, in radica di Erika, prima penna in legno dell'epoca, con sistema di caricamento a stantuffo, di cui verrà creata anche una versione speciale per il Museo MoMA di New York. Si inaugura invece nel 1992 la collezione Master Pai, strumenti per la scrittura di altissimo prestigio, realizzati con materiali e piede preziose in tiratura limitata di 30 pezzi. La prima è Almirante, dedicata al cinquecentesimo anniversario del viaggio di Cristofo Colombo alla Scorpetta delle Americhe. È del 1996 invece la realizzazione di una delle pene che ha consacrato Omas nel regno degli strumenti per la scrittura più innovative e rivoluzionari. Stiamo parlando dell'Omas 360, che con la sua sezione triangolare risponde perfettamente ai principali criteri dell'ergonomia. La collezione 360 ha ottenuto negli Stati Uniti un importantissimo riconoscimento nella categoria Brand Icon. Questi preziosi gioielli di scrittura abbinano in modo perfetto dodi estetiche ad un'estrema facilità d'uso, combinando in modo unico un'immagine sofisticata con il piacere di scrivere. La 360 ha avuto poi diverse versioni, è stata poi prodotta anche nella versione Oversize o Magnum, e con caricamento sia a pistone che a cartuccia converter. Sono state poi prodotte negli anni con diverse livree e colori. La storia di Omas è stata interamente scritta in Italia fino al 2000, quando il gruppo francese Louis Vuitton ha rilevato il controllo dell'azienda dalla famiglia Simoni. Un salto evolutivo nel mondo del lusso, segnato dalla scelta di Louis Vuitton di lanciare penne Omas in edizioni limitate con altri marchi del gruppo, come Krug, Chateau Lafitte, Rothschild, Perrier, Jouet e Emilio Pucci. Fu un momento di forte cambiamento per l'azienda e con la nuova proprietà Omas intrapresa un profondo lavoro di ridisegno della sua linea principale di penne, la nuova arte italiana. Nel 2005 la Grand Paragon fu ufficialmente presentata sul mercato, con una lunghezza di quasi 149 mm da chiusa, con fusto che raggiunge i 14,7 mm nel suo punto più spesso e con il doppio del peso del modello originale, 48 grammi, 36 grammi solo il corpo. La nuova Paragon in celluloide era una penna profondamente differente dal suo modello predecessore. A parte le dimensioni e il peso, le differenze più notevoli sono nella sezione in metallo anziché in celluloide, in argento o placate oro, a seconda dei modelli e nel disegno della nuova clip a rotella, ora molto più grande e sostanziale, con un prefilo profondamente curvo. Il restyling ha inoltre visto l'inserimento del nuovo logo Omas e il posizionamento dell'icona O, che ora si trova sulla parte superiore delle penne, al lato e sotto la nuova arte italiana. A partire dal 2007, la Louis Vuitton, anzi la Eng Daily Holdings, colossico asiatico che distribuisce i principali brand degli orologi di lusso, anche la Swatch, affiancò la Louis Vuitton nella gestione di Omas, rilevandone la quota di maggioranza e focalizzandosi sullo sviluppo del marchio ad oriente. Nel 2007 fu lanciata la linea emotica, che era caratterizzata da un nuovo look audace, una linea ben azzeccata. Questa penna ha preso diversi premi, sia nel 2007, sulla base dei voti dei lettori della rivista Pen World, e il prestigioso premio Trofea du Stilograph sempre nel 2007. Emotica sta per E, emozione, M, mo, movimento, T, titanio e caucciù, gomma, K. La clip è unica, in quanto quando viene agganciata sulla penna appare come una normale clip, ma una volta sollevata forma due gambe per tenere la penna inclinata rispetto al tavolo. Omas è rimasta presente sul mercato fino a marzo 2016, quando è stata definitivamente chiusa. In conclusione, sembrerebbe che poi nel 2018 la Ancora ha acquisito il marchio, mentre nella scribbo, scrittura bolognese, lavorano ora persone che hanno lavorato in passato in Omas. Il materiale dei magazzini, attrezzi, stampi, barri di celluloide, anche di tipo arco, sono andate alla Leonardo Officine Italiana di Napo, di Caserta, e a Emanuele Emanuele Caltagirone, fondatore dell'Armando Simoni Club. È la fine e chissà cosa ci dirà il futuro. Per quanto riguarda il presente materiale, è fornito esclusivamente per fini personali di ricerca e di studio. Quindi si ringrazia chi ha partecipato a questa guida. E posso dirvi che è stata un'avventura anche questa volta parlare tutto di un fiato. E se non avete ancora le idee chiare sulla Omas, vi ripeto il consiglio di andarvi a vedere la guida, che è esauriente e piena di fotografie. Ve la potete scaricare gratuitamente in formato PDF, iscrivendovi alla pagina Facebook del Circolo Stiliografico Romano. Gradis, tutto gratuito. Nel frattempo vi do un abbraccio e appuntamento, dopo 45 minuti oltre, alla prossima guida. A bientôt.